Sì, più che una tabella ci sono le istruzioni per interpretare i colori, sono semplicissimi. Brevissimamente, i colori sono uno spettro di emissione, cioè per esempio la parte animica assorbe le informazioni del verde e del rosso, per questo non assorbe le informazioni del blu, ed è blu, perché è uno spettro di emissione. Chiaramente, anche con uno di quei giochini che ci sono al computer, basta con i cursori RGB, cambiare la grandezza del cursore e vedere che cosa succede se l'asse del tempo viene ammazzato, se viene ammazzato l'asse d'energia o l'asse dello spazio, come cambiano i colori. E chiaramente te ti tornerai una parte animica che è di un colore che non può essere. Brevemente, quando cambiano i colori RGB, anima, mente e spirito, blu, verde e rosso, oppure in quel contesto anche anima poteva essere già, ma non dirò perché, perché se no ci vuole troppo tempo, questi colori cambiano. In RGB, sempre, ma ruotati, cioè anima invece di essere blu è rossa, spirito invece di essere rosso è verde, quindi sempre rimangono RGB, quello che si vedeva 100 su 100, senza possibilità di errore, è che il soggetto ha un'interferenza aliena. Non c'è nessun'altra possibilità e questo si vede confrontando i vettori. Se invece i colori RGB sono cambiati nei colori complementari, ciano, giallo e magenta, allora il soggetto non ha problemi di aduzione, ma ha problemi di tipo psicologico e allora i colori con questo trucco di che cosa ti manca. Ti manca spazio? Ti manca tempo? Ti manca energia? Dove manca? Nella parte spirituale, maschile? Nella parte femminile, animica? O nella parte mentale? Ecco che te comprendi esattamente a che punto sbaglia il tuo percorso. Grazie a tutti.